Ciao ragazzi, vi aspettiamo venerdì 20 maggio alla Festa dei Sapori a Camazzone di Carmignano di Brenta. La festa si svolgerà presso Parco dei Sapori, in via Meucci, appunto a Camazzone di Carmignano di Brenta. Questa grande tre giorni di festa, venerdì 20, sabato 21, domenica 22 maggio, dall'orario di aperitivo in poi. Noi vi aspettiamo con Lorenzo Speed and the Sound and Radio Show in tour, venerdì 20 maggio. Vi aspettiamo per questa grande festa di musica e divertimento. L'ingresso sarà completamente libero e gratuito per tutti, ci sarà anche il Luna Park per i bimbi e ci sarà lo stand gastronomico con un ringraziamento speciale alla Pro Loco Camazzone. Vi aspettiamo per questo grande evento, qui c'è anche il libricino con tutto il programma. Ciao a tutti ed appuntamento a venerdì 20 maggio. Si va con la musica!